Eccoci anche per questa settimana con una nuova puntata del nostro settimanale a tu per tu su studio 98 e ritorna nei nostri studi un ospite alquanto gradito è già quasi presente tutti i giorni nei nostri telegiornali perché sta lavorando davvero alacremente e per l'interesse della città non si è risparmiato da quando è diventato consigliere comunale cioè di più occupa anche riveste anche la carica di vicepresidente del consiglio comunale di Agrigento e allora avete già capito di chi si tratta è Giuseppe Di Rosa presente nei nostri studi siamo riusciti ad acciuffarlo perché era pieno di impegni in questi giorni e quindi stiamo registrando di buon mattino questa trasmissione che poi vi proporremo nel corso della settimana con diverse repliche Giuseppe Di Rosa grazie per essere qui appunto su studio 98 promotore ultimamente dell'iniziativa la petizione per le dimissioni del sindaco di Agrigento Marco Zambuto una raccolta firme tra Porta di Ponte e Piazza Cavour e questa raccolta di firme al momento che effetti sta producendo? Ma guarda effetti impensati assolutamente non potevamo mai immaginare non potevo mai immaginare io di raggiungere il limite massimo che mi ero posto già dopo sei giorni tu calcola che tra sabato e domenica tra Porta di Ponte e Piazza Cavour non ci siamo potuti insediare perché non abbiamo potuto montare il gazebo perché il forte vento e le piogge ci hanno privato dell'occasione di raccogliere ancora firme anche in questo modo comunque siamo riusciti a raggiungere già le 1200 firme che io mi ero posto come limite massimo ad Agrigento nessuno mai ha raccolto chissà quante firme vorrei precisare così a scanso di equivoci che il nervosismo che abbiamo scaturito nella parte avversa non è altri che perché io nella petizione si chiede si scrive zambuto dimettiti il la mia istituzione è quella di far capire al primo cittadino che lui sta amministrando male può anche darsi che la petizione lo porti a migliorare il modo di amministrare che ben venga un sindaco ci deve essere ad Agrigento abbiamo lui che per altri tre anni potrebbe essere il nostro sindaco è stato votato dal 70% degli agrigentini del 52% che sono andati a votare non significa significa tanto e non significa nulla sono sempre 20.000 agrigentini che lo hanno voluto a primo cittadino è naturale che non è assolutamente una battaglia politica di rosa zambuto assolutamente no è un voler dare un segnale a questa amministrazione quello che si sta facendo non è sicuramente nell'interesse della comunità basta vedere gli spot elettorali della campagna elettorale di zambuto quando svendolava non pagheremo l'imu faremo la sommossa pubblica non pagheremo le tasse non aumenteremo più un euro di tasse invece abbiamo aumentato le tasse al massimo sgraveremo tutte le tasse invece non si è sgravato nulla ai nostri cittadini ho notato che lei li ha taggati ma è quello che io dico lui ha mancato di rispetto in questo senso agli agrigentini io non posso promettere la luna e non dare neppure un briciolo io devo promettere quello che è possibile fare capisco che in campagna elettorale si può iniziare a gridare allo scandalo in tutto però assolutamente non l'agrigentino va rispettato non possiamo ancora dire agli agrigentini che non sistemiamo le buche perché mancano i sei milioni perché i lavori non possono partire perché la burocrazia ma quale burocrazia bastava e basta la manutenzione ordinaria che devi comunque sempre fare assolutamente io non non voglio essere colui il quale diventa come fu prima del mio avvicinamento a zambuto quando mi aveva promesso che avrebbe legalizzato tutto quello che io avevo toccato di illegale perché guarda purtroppo dal momento del mio insedimento il 27 11 del 2011 non faccio altro che ritrovarmi con problematiche di illegalità al comune dirigendo vige l'assoluta illegalità in tutti i rami io ero stato tacciato da un tuo collega tacciato assolutamente tacciato ero stato nominato da un tuo collega come l'anti zambutiano ma io non sono anti zambutiano io sono a favore della mia città se zambuto amministra in questo modo è normale che mi dia mi manda a spasso a me che sono all'opposizione assolutamente io dici ma perché sei tornato e ritornato all'opposizione mi manda a nozze sicuramente perché sei tornato all'opposizione ma io non sono mai stato alla maggioranza avevo dichiarato ai vostri microfoni spesso che io ero vicino a zambuto come sarei stato vicino a angelino alfano come sarei stato vicino a iacolino come sarei stato vicino a enzo fondale come sarei stato vicino a capo di casa se fanno qualcosa per agrigento zambuto non ne vuole sapere zambuto va rincorrendo solo ed esclusivamente una poltrona più comoda di quella che ha oggi e non è possibile tu devi amministrare innanzitutto agrigento perché sei stato votato per quello e poi dai se in meriti di andare in europa vai in europa se in meriti di andare al parlamento vai al parlamento e comunque non devi dimenticarti che rappresenti quella trancia degli anche secondo il pensiero di giuseppe di rosa zambuto alla ricerca di altri elidi ne ho la certezza che è così io odio questo modo di amministrare non esiste agrigento va amministrata agrigento ha necessità di avere un sindaco che non vada per le strade solo nel periodo di campagna elettorale oltretutto lui ha questo appello sulla gente ma vacci tutti i giorni mezzo alle strade vai a sentire cosa ha bisogno la gente non tringerarti dietro al problema le telefonate di protesta sono diverse quelle che arrivano nel corso della mattinata in redazione tra fontanelle dove ci sono problemi di illuminazione a quanto pare alla via in pedo che alla via in pedo che arrivano continue telefonate qui in redazione non ci si può tringerare dietro al dire la burocrazia ma la burocrazia al comune agrigento la gestisce lui la burocrazia nazionale la gestiscono altri ma la burocrazia al comune agrigento la gestisce lui adesso sono venute alla luce tantisse problematiche in consiglio comunale questo consiglio comunale che che si voglia dire ha prodotto centinaia di atti centinaia di emozioni centinaia di deliberazioni ma dove sono queste deliberazioni ho mostrato l'altro giorno in consiglio comunale una deliberazione del 28 11 2012 2011 scusate quando allora appena insediato mio io subito immediatamente affrontai la questione della cartellonistica pubblicitaria in quell'occasione il sindaco si prese l'impegno con una deliberazione per quanto riguardava gli assetti di bilancio si prese l'impegno quello stesso sindaco che oggi ci governa di ridurre le tasse di affrontare chi non le paga noi abbiamo 4.000 case che sono fantasma per le nostre tasse per i nostri uffici non esistono non incameriamo le tasse che dovrebbero pagare come si dice alla gente che vogliamo migliorare i servizi quando poi la tua ancora oggi dopo due anni di mie battaglie si incontra in segreto con gli assessori con i dirigenti e non sistema nulla come si può oggi parlare di vivibilità quando poi pubblicizziamo il taglio di alberi come possiamo parlare potatura di alberi diventa un evento ad agrigento ma assolutamente no io vorrei capire noi aspettiamo dal mese di novembre che il sindaco venga in consiglio comunale a presentare la nuova giunta a lui gli non è mai venuto a presentare la giunta questa nuova giunta sta lavorando già è attiva non è venuto a presentarla questo per dirvi che non gli interessa lui è venuto un giorno e poi sparito è venuto per della discussione sui rifiuti è venuto un giorno ed è poi sparito non esiste se non può venire il vice sindaco non mi hanno fatto gli ultimi due consulti comunali ma tutti e non abbiamo assolutamente potuto parlare del bando rifiuti non abbiamo potuto parlare del bando rifiuti perché mancava il vice sindaco che è anche assessore al ramo è presidente del tavolo tecnico tavolo tecnico che di fatto io in un'intervista in quelle 5 novembre 5 dicembre scusami ebbe a dire che era stato già scavalcato dall'amministrazione l'amministrazione fatto sta che ha dimostrato di non tenere in considerazione il tavolo tecnico voluto dall'amministrazione dal consiglio comunale i miei colleghi sono stati esoterati e io ho chiesto le dimissioni immediate si devono dimettere perché l'amministrazione prima fa un bando attaccata da noi consiglieri perché il bando era proprio ridicolo ritira il bando e addirittura adesso delibera l'assunzione di un tecnico per 20 mila euro un consulente tecnico quando noi abbiamo i nostri dirigenti che hanno lavorato nel settore e non dimentichiamo che paghiamo profumatamente i dirigenti del lato i dirigenti del lato che hanno una professionalità tale da aver gestito in questo decennio i rifiuti per la provincia dei dirigenti ma di cosa parliamo non si può continuare ad amministrare quindi il sindaco ha nominato un consulente non l'ha ancora nominato ha deliberato l'assunzione di un consulente c'è la deliberazione quindi a breve dovrebbe sta valcando sempre il tavolo tecnico che non è quello che ha chiesto il tavolo tecnico a cosa serve il tavolo tecnico dei consiglieri a questo punto non avrebbe senso ho chiesto ai miei colleghi di dimissione noi in consiglio comunale abbiamo la discussione sul caso e ne chiedo e non solo io anche tutti gli altri miei colleghi il consigliere patti i altri consiglieri hanno chiesto già le dimissioni i consiglieri dell'MPA l'MPA che guarda caso poi però a due due suoi rappresentanti nel tavolo tecnico il presidente del consiglio è MPA ma non possiamo permetterci di farci ridicolizzare da questa amministrazione perché poi in mezzo alle strade ci andiamo noi io a tutti i giorni purtroppo non sempre meno male ho dovuto subire anche aggressioni verbali da gente che è convinta da gente esasperata da gente che è convinta che noi guadagniamo duemila euro al mese mentre non è così io dal momento del mio insediamento dal 2011 dal novembre 2011 ad oggi per volere del consiglio comunale per quella stessa deliberazione per la quale il sindaco non ha ottemperato alla riscossione dei tributi che non hanno pagato altre persone da quel momento io riscuoto al massimo delle presenze 400 euro mensili che vi posso assicurare non bastano nemmeno per il telefonino a uno come me che giornalmente è in mezzo alle strade però la gente è esasperata ragazzini di 16 anni adesso c'è questo grande movimento di antipolitica e ti aggrediscono in mezzo alle strade noi non possiamo subire queste cose per l'inerzia dell'amministrazione diventa davvero difficile fare politica nella città di agrigento e non solo giuseppe di rosa ma cosa è successo realmente tra lei e il sindaco zambuto anche perché trappè la voce che l'era stato proposto di fare l'assessore quindi signora che lei ha rinunciato a fare l'assessore a novembre e poi d'un tratto i rapporti si sono inclinati cosa c'è realmente nel rapporto tra lei e marco zambuto allora io parto da lontano 2007 nel 2007 marco zambuto allora si doveva candidare chiese non era ancora nemmeno nei pensieri degli altri lui ci stava lavorando la sera con amici stava cercando di lavorare sulla candidatura sulla sua candidatura io avevo creduto già nel 2007 alla sua sindacatura nella sua persona nella sua persona in quel momento lui dopo sapete tutti neppure un anno si consegnò nelle mani dell'allora ministro angelino alfano zambuto parte con l'udc ricordiamo i passaggi era segretario provinciale quando si candidò non lo fu più perché si dimisca non aveva non aveva il nulla il budget dall'udc tutti avevamo creduto in quella avventura in quella scommessa si erano vinte le elezioni non appena vinte le elezioni zambuto aveva scaricato come si scaricano i reflui in quel modo in quello stesso modo come si scaricano i reflui aveva scaricato tutti gli amici che lo avevano appoggiato il problema nasce quando io vado entro in consiglio comunale e ti ripeto è più semplice fare l'opposizione che la maggioranza con un'amministrazione che disamministra se poi vengo contattato dal zambuto e dal suo avatar e mi viene proposto di affrontare dall'interno anziché le problematiche affrontarle e portarle solo alla luce affrontarle invece risolverle perché mi si propone di fare parte di un progetto di rilancio perché si era capito che si era intuito che si stava amministrando male io non chiedo di fare l'assessore io in quella sede e non chiedo neppure che mi si venga pagato nessun prezzo politico io in quella sede dico io voglio solo lavorare per la città a me interessa lavorare per la città quella città che mi ha eletto e per la quale io finché faccio parte degli eletti non sono nominato degli eletti dal popolo voglio dare il massimo io ho abbandonato tutti gli altri miei interessi e ne ho altri ma mi dedicherò a questo perché lo devo alle mie figlie e a tutti i ragazzi che per fortuna che stava per lasciare se non ricordo male è stato convinto da sua figlia perfetto io ne ho passato anche qui io ne ho passate tantissime io ho avuto il furto a casa è non sia la certezza ma la quasi certezza che viene da ambienti che non amano quello che sto facendo addirittura ma cioè signori miei io metto la faccia in tutto quello che sto facendo io pur sbagliando qualche volta sicuramente avrò sbagliato tutti possiamo sbagliare sicuramente avrò anche sbagliato in qualcuna delle mie battaglie o nell'approccio alle mie battaglie ma ho spolverato ho portato alla luce cose che in vent'anni nessuno aveva portato mai alla luce a la situazione sulla pubblicità non la scopro io oggi però io oggi la porto alla luce con forza oggi siamo al capolinea oggi sicuramente dopo l'ultimo consiglio comunale presumo che gli atti sicuramente se non li manda il segretario li richiederà o la procura o la corte dei conti non è pensabile che vengano fuori queste dichiarazioni da parte dei dirigenti perché io mi allontano da zambuto e non accetto io di fare l'assessore a zambuto nella maniera in cui mi viene proposta al momento della nomina a me mi viene proposto o di dimettermi da consigliere comunale significava sparire dalla scena politica per il metodo zambuto perché dopo due giorni appena c'era l'occasione mi avrebbe messo fuori e mi avrebbe tagliato dalla scena politica lo scenario politico è questo la politica per loro non è polizia come viene detto interesse della città interesse personale per loro e io lo dissi quando ero al pdl perché andai via al pdl perché alcuni facevano solo l'interesse proprio e dei propri familiari e lo posso confermare oggi da parte di queste persone chi vive di politica chi è mestierante della politica gliene può fregar di meno della città io non accetto di fare l'assessore io non accetto metto messo alle strette di potere lavorare per la città ma dovendomi rapportare con l'avatar e mi sarebbe mi sia stato promesso pure la candidatura a sindaco mi sono state promesse a tante altre cose e ho svendolato che io purtroppo per loro non sono fesso l'avatar avatar avatar il famoso fesso glielo avevo detto glielo ripetevo marco io non ti ho chiesto di fare parte della giunta fammi lavorare per la città i risultati si sono visti sono ben visibili villa bonfiglio oggi è diventato il progetto più bello degli ultimi sette anni di amministrazione comunale ma marco zambuto li ha ben poco marco zambuto ha solo agevolato me nella gestione della dell'apertura di villa bonfiglio non dimentichiamo non vi nascondo che è di questo un tuo collega schicchi ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia perché scoprì come era la cosa che neppure i dirigenti volevano che si facesse quel progetto e se non ero io che litigavo anche con i dirigenti cosa che zambuto purtroppo non fa mai perché c'è il dimmi e dammi con il dirigente mentre io non ho nulla nulla nessuno può rimproverarmi in politico o un dirigente di avermi fatto un favore allora io posso arrivare anche allo scontro io in quel momento dimostrare a zambuto come si fanno le cose a costo zero ad agrigento con i miei sponsor la gente che vuole bene ha capito che io stavo facendo bene per agrigento poi villa bonfiglio oggi si pubblicizza che si tagliano le alberi la potatura degli alberi è una cosa ordinaria non possiamo la manutenzione ordinaria pubblicizzarla con un comunicato stampa assurdo io ti rispondo decisamente e in altri 20 secondi io rinuncio a fare l'assessore io rinuncio a fare il super assessore mi è stato proposto super assessore significa con deleghe quasi infinite e rinuncio nel frattempo stavano per andare a giurare i miei colleghi per i quali io avevo fatto un passo indietro lasciando disponibilità a zambuto assoluta per la formazione della giunta io faccio un passo indietro mentre mi si viene proposto vai a giurare adesso stesso vai a fare il super assessore l'importante che stai dalla nostra parte anche nelle tue iniziative non mi si può chiudere la bocca a me io sono questo farò il consigliere comunale il carattere di peppe di rosa farò il consigliere comunale farò il consigliere comunale finché ne ho la possibilità finché vengo eletto io le non sono né un nominato né un pluri pregiudicato come qualcuno assolutamente no io sono lì perché mi ha votato la gente e rappresento la gente chi mi ha votato conosce il mio carattere chi mi ha votato ha voluto che io andessi a fare le battaglie che sto facendo per la gente non per i miei interessi ha detto lei solo il consiglio comunale può sfiduciare il sindaco e potrà farlo a partire da giugno di mozione non ci sarà bisogno perché più di una voce spinge marco zambuto alla candidatura dell'elezione europea che avranno luogo a fine maggio con molta probabilità con una forte spinta delle file renziane ormai preminente all'interno del partito democratico questo signiva non c'è bisogno di mozione non è così di sfiducia ti spiego perché per la candidatura all'europea zambuto non ha necessità di dimettersi quindi non è ineleggibile non occorre se dovesse essere eletto a sei mesi però sei mesi di sei mesi per optare per la sindacatura o per la deputazione europea parlamentare europeo presumo che sia presumo per un mestierante della politica che per lui sia andare a lavorare per altri cinque anni avere tranquillità assoluta di poter andare a fare il politico nel frattempo nei sei mesi programmerà un suo candidato alla sindacatura di Agrigento e da lì ne vedremo delle belle. Ti affascinerebbe la candidatura a sindaco di Agrigento ormai se ne parla da molti mesi ad Agrigento città. Ti spiego così una volta e per tutti. Non per bruciare eventuale possibilità. Io spero che questa trasmissione la vedano in tanti che tanta gente possa sentire a viva voce quello che io dichiarerò in questo momento sulla sindacatura a sindaco sulla candidatura a sindaco. Ascolta ad Agrigento da che mondo è mondo se non vai gli accordi con i poteri forti non vuoi andare da nessuna parte. Io sono uno scomodo sono scomodo anche ad alcuni deputati che in questo momento fanno politica da Agrigento. Tant'è che spesso se ne inventano di tutti i colori. Esce un problema dal consiglio comunale. Chi l'ha proposto? Peppe di Rosa. Non è così. C'erano i verbali e ho dimostrato che non era così. Si vota il bilancio e chi fa passare il bilancio lo dichiara in un'altra trasmissione. Ha voluto lanciare un altro messaggio a Zambuto. Non interessava nessuno che Zambuto avesse un forte segnale politico con la bocciatura del bilancio. Perché sono altri che stanno preparandosi alle candidature di alcuni personaggi che tengono lì in posizione di visibilità e all'ultimo li candideranno a sindaco. La mia candidatura, eventuale candidatura a sindaco, può nascere solo e esclusivamente. Per volere del popolo. E il popolo ha regrigento. Ha paura. Al Gazebo a firmare per la richiesta di dimissioni a Zambuto. Sono venute tante persone e tra tante, ti posso assicurare, anche tantissime non hanno firmato nel momento in cui abbiamo detto che necessitava il documento. Qualcuna di queste ha esclamato a viva voce davanti a noi. Situazioni che nel 2014 non avrebbero modo di esistere. È normale. Di posto assicurare la gente teme i politici potenti a regrigento. Io non sono comodo per questa gente. Senza mezzi termini, poteri forti e lobbies presenti. Ma le lobby a regrigento ci sono, si sa, purtroppo gestiscono poteri. Io per mia grazia, ripeto, non mi sono mai calato a questi poteri. Ho dimostrato anche nel calcio che non mi sono calato a certi poteri, mettendo in grosse difficoltà il mio portafoglio e la mia famiglia. Purtroppo la gente ancora oggi, molti hanno capito, però sai, poi c'è invece quello che non vuole capire, perché poi il marcio è sempre colui il quale è il debole in questa situazione. C'è il potere forte col debole che sono io. Tu vai al cinema a vedere un boss in salotto e ne capirai qualcosa di quello che voglio dire. Io l'ho visto quel film ed è... Un boss in salotto lo vedrò a più presto. Guarda, è l'emblema di quello che succede a regrigento in molti ambiti. Tu vai allo stadio, un pluripregiudicato entra e viene applaudito e invece chi come me aveva rimesso quasi quasi la vita e la serenità familiare, magari c'è il tifoso che dice quello aveva rovinato l'Akragas. Non è così. L'Akragas oggi è lotta per la serie C, ma c'è chi come me si è quasi rovinato per salvarla perché era stato venduto il titolo a Canicattì. La gente queste cose le dimentica e io però, siccome purtroppo per carattere sono uno che va avanti, non temo assolutamente nulla, andrò per la mia strada, poi la gente sarà la gente. A proposito della dichiarazione poco fa, la gente ha paura anche nell'uscire la testa del documento di riconoscimento, però anche tu sei intervenuto a proposito di questa tragica vicenda, non vogliamo assolutamente fare strumentalizzazioni sulla morte di Chiara Lamedoa, ma in occasione di quella fiaccolata si è vista uscire fuori la gente a protestare, a squarciagola. Io ero presente, non mi sono messo in vista, ma ho fatto quasi tutta la fiaccolata dalla Gatenea al municipio, però ti posso assicurare che molta gente in quell'occasione ha strumentalizzato, non è vero che non ha strumentalizzato, ha strumentalizzato il Forcone di turno, ha strumentalizzato il Cinque Stelle di turno, hanno strumentalizzato quelli che in questo momento vogliono sfruttare, vogliono sfruttare il filone dell'antipolitica per mettere oggi la loro faccia, quando loro stessi invece, non molto tempo fa, erano dietro le porte delle deputazioni a chiedere il teatro Pirandello con lo spettacolo della figlia, la manifestazione, l'incarico, qualcuno ha avuto un incarico da Zambuto per i progetti che ci furono per la ristrutturazione di ville e tutta gente è delusa dai politici di turno e oggi che vuole sfruttare l'antipolitica. Molta gente ad Agrigento si è risvegliata, questo sono d'accordo, lo stanno tanto io con nella raccolta firme che è preciso un gazebo, due ore al venerdì, ma almeno siamo riusciti a farlo, perché c'era brutto tempo, quattro ore al sabato e quattro ore la domenica. Lo abbiamo fatto questo per una settimana, perché questa settimana il sabato e la domenica sono saltate, siamo arrivati a 1200 firme, la gente mi chiama per sapere dove sono i gazebo. Quali gazebo? Il gazebo è uno, l'iniziativa parte da me e molti, ti devo dire, non partecipano all'iniziativa perché parte da me e sarebbe una mia vittoria. Questa è Agrigento, capisci cosa ti voglio dire? Agrigento è in questo momento, l'ho detto sin dall'inizio, non è una gara tra me e Zambuto. Quelli che siete sdegnati, che scrivete sui social network, che fate le sfilate, che fate l'antipolitica, partecipate alla firma, vediamo quanti siamo che non vogliamo Zambuto. Non partecipano per non fare brella figura a me, l'agrigentina è questo. Oggi se tu parli con noi, io non firmo perché quello che organizza è di rosa, di rosa, non avendo quando non hanno nulla da dire, che non zanno cosa dirmi, anche un consigliere comunale che oggi si spaccia quasi per assessore, nelle interviste, l'altro giorno non avendo mica che dirmi, in consiglio comunale, quando io gli ho sventolato, che purtroppo sono la, gli stanno dando il marchio alla illegalità, anche con i mercatini, di cui ora ti accenderò qualcosa, gli ho detto così, lui sai cosa mi ha detto? Eh vabbè tu, ma tu sei stato presidente di una squadra che avevi fatto quasi sparire. Mi sono fatto una risata, dico se questo è quello che hai da dirmi contro, vuol dire che sei... Quella squadra invece si salvò dignitosamente. Si salvò più che dignitosamente l'hanno... Anzi. Arrivamo alle porte delle... Qualche prima in classifica. Prima in classifica, lasciamo per... Lui, cioè il calcio non sa manco cosa di cosa hai fatto. Si salvò senza patemi d'animo. E purtroppo, ecco, sì, oggi ad aggrigendo, tu in mezzo al... ti ritorno a quel discorso di poco fa, oggi ad aggrigendo, in mezzo alle strade, l'antipolitica si fa contro di rosa e non si fa contro gli altri colleghi che magari sono inermi, non hanno mai preso la parola in consiglio comunale, fanno politica nei meandri della politica, quella politica che io odio. Capito? L'esposizione mediatica purtroppo fa male. A volte sì, a volte sì. L'agonia mediatica può essere anche fatale. 27 novembre 2011 Peppe di Rosa si insedia, primo cruccio, primo cavallo di battaglia cartellonistica pubblicitaria, ma c'è anche il cavallo di battaglia sul regolamento taxi che tu porti avanti da parecchio tempo. E allora, ad aggrigendo ho dimostrato, partendo dalla cartellonistica pubblicitaria, che comprende tutto, non solo i cartelloni 6x3, sono i cartelloni da 100x70, i cartelloni 2 metri, tutta la pubblicità che vedi, anche le transenne. Le transenne si è scoperto che l'azienda che le gestisce non ha mai partecipato a un bando, gestisce le transenne da 30 anni con una autorizzazione fittizia, che non ha mai pagato il quantum doveva, quantomeno dal 95 quando è subentrato il nuovo regolamento, deve solo per gli ultimi 5 anni 150 mila euro circa al comune di Agrigento. Eppure il gestore di questa azienda, il proprietario di questa azienda, non dico si è risicato, perché io non ho nemmeno risposto, si è permesso di minacciarmi. Questa è Agrigento, capisci? Ti arrivano poi le minacce da ovunque, quando tu invece scopri e porti alla luce problematiche che sono ventennali, trentennali e nessuno mai ha avuto il coraggio di portare alla luce, neppure i grandi politologi che poi facevano politica, non si capiva come, ad Agrigento e l'hanno rovinata. Invece io sto portando avanti da dove andare a recuperare le tasse che poi invece pagano i nostri cittadini. Le transenne, la pubblicità, ormai è tutto al pettine, sono venuti i nodi. Spero, ti ripeto, te l'ho detto poco fa, che quando prima avremo notizia dalla Corte dei Conti o dalla Procura della Repubblica, perché quando dichiarato dai dirigenti in Consiglio Comunale è riportato fedelmente sulla Sicilia, è assurdo un dirigente che dichiara che dal 2008, guarda caso, dal 2008 si rilasciano concessioni senza guardare nulla, senza passare dal regolamento, senza passare assolutamente dai pareri tecnici, senza nessuno... Significa la prima legislatura zambuto, nel 2008 siamo lì. Tu l'hai detto, senza nessun nulla osta da parte degli uffici, viabilità o altro. Il comandante dichiara in Consiglio Comunale che quasi tutti i tabelloni pubblicità sono in contrasto con l'articolo 23 del Codice della Stada e di conseguenza vanno rimossi. Ma cosa devo aggiungere più di questo un consigliere comunale? Regolamento taxi. E lo stesso discorso che ho sempre detto, mancano tutti i regolamenti, perché mancando le regole, chi amministra ha apertura, può favorire l'amico di turno. Mancando il regolamento taxi, il dirigente, quando io ho portato alla luce questa problematica, il dirigente ha dichiarato in Consiglio Comunale che non aveva espletato il bando per l'assegnazione di nuove licenze che non sono rilasciate, perché noi abbiamo la possibilità di rilasciare per i soli taxi 30 licenze. Di queste 30 oggi solo 6 sono in funzione. Ma manca il lavoro? Non è vero. Non è vero perché essendoci una quantità tale di tassisti, tu il tassista lo trovi fermo al zona campo sportivo, lo trovi fermo a Piazza Stazione, lo trovi fermo al Villaggio Mosè, lo trovi fermo a San Leone. È impensabile che un turista debba pagare 40 euro per essere portato da Fiume Naro, l'hotel che c'è a Fiume Naro, non voglio fare nomi, al McDonald's, 40 euro e ti senti rispondere dal tassista che ha ragione, ha ragione, chi gli può dare torto? Che lui il tassametro lo accende quando parte da Piazza Stazione. E se noi abbiamo allora uno da andare a prendere al limite del Villaggio Mosè è proprio l'ultima punta che gli facciamo pagare. Ma sembra che gente è, ci devono essere le varie postazioni di tassisti con i turni, con il numero verde. Oggi ancora i tassisti si lamentano che non hanno il telefono per la chiamata in Piazza Rosselli. Piazza Rosselli dove io ho lottato a farli rimettere al loro posto perché li avevano messi in mezzo alla strada e lo spazio adibito ai tassi, era stato adibito a cosa? A scarico bagagli. Il tassista deve avere la sua dignità. La mancanza di regole, gli precarica il modo di lavorare a queste persone perché non hanno il posteggio a Piazza Salone, non hanno il parcheggio a Villaggio Mosè. Villaggio Mosè è pieno di alberghi e non ci sono i tassi, non c'è la fermata taxi. Manca, in effetti manca. Finalmente il regolamento arriva in consiglio comunale, ne sentiremo delle belle perché l'approvazione dell'atto di indirizzo era che l'amministrazione doveva predisporre il regolamento taxi, NCC e Natanti. A Salone in tanti affittano i comuni ma con quale licenza? Con quale licenza? Con quale licenza? Pontile, ma tutto quello che tocchi ad agrigento è illegale. Tutto. E me ne fanno una colpa che sto spolverando queste cose. Agrigento vive nella illegalità, però poi gli illegali sono quelli della zona A. Tutto è illegale. Quale zona? La zona A stiamo scoprendo quasi che non è illegale in confronto alle altre cose. Lo stato dei mercati ad agrigento, un altro cavallo di battaglia di Peppe di Rosa. Stato dei mercati, stato dei mercati e quello è il diciamo ho avuto lì la dimostrazione che Zambuto non vuole assolutamente fare bene per agrigento perché mi prendeva in giro, perché mi diceva ma stai tranquillo ora questa cosa te la vai a fare tu, ma questo da febbraio quando mi disse. Il mercato che è rimasto fermo tre mesi. Il mercato è rimasto fermo tre mesi, due bandi e sono stati ritirati, una manifestazione si è ricordata alla prefettura dei commercianti, il prefetto non so che che gli hanno detto perché non mi hanno fatto partecipare alla riunione. Come non mi hanno fatto partecipare? Sono salita mi hanno detto che io non ero abilitato a partecipare, dovevo essere o assessore al ramo o delegato dal sindaco e non ho partecipato. Oggi si scopre pure questo. Il prefetto gli dà l'indimazione per aprirlo per motivi di pubblica ingolumità, ma lo aprono come era prima. Il mercato ci vogliono tre mosse per sistemarlo. Basta chiudere gli ingressi, basta chiudere gli ingressi e far accedere all'interno dell'area mercatale, solo i commercianti che hanno avuto rilasciato dagli uffici della attività produttiva, il nulla o sta d'entrata, la licenza. Oggi vorrei capire in un anno e mezzo cosa ha fatto quell'ufficio. Perché non si è mai data una sistemazione a questi mercati? Si parla di mercati, mercato degli agricoltori lo chiamano, non è così. Il mercato della Villa Bonviglio è un mercato della Col Diretti, mai autorizzato dal Consiglio Comunale, unico organo a potere legittimare lo svolgimento di un mercato. Questo mercato si svolge da cinque anni a Villa Bonviglio, nasce a Piazza Stazione, poi viene spostato al Viale della Vittoria con Isola Pedonale, poi ancora viene spostato, da domenica mattina, poi ancora per volere del sindaco viene spostato al sabato mattina a Villa Bonviglio, ma sempre con determini sindacali. Le adesso chiede che si svolga la domenica? Non è così, ora ti spiego cosa chiedo io. Cosa succede? Le determini sindacali, le deliberazioni sindacali su materie che sono proprie del Consiglio Comunale, il sindaco le può determinare, ma entro 30 giorni, 60 al massimo, deve portare la proposta di delibera in Consiglio Comunale, il quale Consiglio Comunale la può fare propria, la può emendare e regola il servizio. L'articolo del regolamento dei mercati che regola questo è l'articolo 17. L'assessore al ramo con l'ex dirigente al ramo avevano portato allo tempore il la predisposizione di un nuovo articolo 17 con alcuni mercati e l'hanno ritirato nel momento in cui io li avevo messi in difficoltà presentando tutti gli emendamenti che regolarizzavano il quantum. Regolarizzavamo Villa Seta, regolarizzavamo gli agricoltori, che non è agricoltori ma col diretti, regolarizzavamo un po' di mercati. L'hanno ritirato perché, compreso Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, voi non avete più sentito parlare di mercato di Villaggio Peruzzo, non si è sentito parlare più di Villaggio Mosè, la regolarizzazione di Villaggio Mosè. Perché? Perché? Perché senza le regole ci divertiamo. O quantomeno si divertono, io no. Io voglio le regole. Il mercato, tu mi dici a me vuoi? No, assolutamente. Allora, il mercato degli agricoltori. Materia in questo momento molto, perché ne parleremo? Molto delicata. Delicatissima, perché è come se tu hai lasciato costruire una palazzina abusiva e tu gli hai rilasciato una licenza su di un voglio, quando hanno finito? Alla fine gli dici non potete attivare le fogne e l'acqua perché siete abusivi. Ma questa gente ti spara. Vai a dire oggi, non ai commercianti, ma a chi va a fare la spesa, al sabato, vai a dire che quel mercato è abusivo. Ma è abusivo di fatto. Non è mai stato deliberato dal Consiglio. Cosa dico io? Quindi non è regolarizzato. Non è regolarizzato. Cosa succede? Circa tre mesi fa, due mesi, tre mesi fa d'estate, il mercato nel momento in cui tornava il primo settembre, mi sembra che sia stato, tornava da San Leone a Villa Bonviglio, sono stato io a caricarmi il fardello di fare aprire i cancelli, perché non gli avevano fatto trovare neppure chi apriva i cancelli. Ricordo questo particolare. Io ho detto al custode, assumendomi le mie responsabilità, il sindaco era fuori sede, il vice sindaco non si trovava, l'assessore non riuscivano a trovarlo, io ho fatto aprire i cancelli. Ma perché quel mercato va svolto finché non c'è un host al svolgimento. Allora dico, ci sono... Certo, il mercato è saldafarsi, ecco. E si era trasferito all'inizio della giornata, era alle 13 del sabato. Ma stiamo scherzando. O alle 8 lo sposti. Ma per problemi di viabilità. A quel punto mi è sorto il dubbio. Ma questo mercato ha mai avuto nulla a osta dagli uffici preposti? Perché non viene portato in consiglio comunale? E ho presentato il mio emendamento. Il mio emendamento iniziale era per il sabato, così com'è, per come lo vuole la gente. Cosa succede? Che nessuno degli uffici, dopo due mesi dalla presentazione del mio emendamento, ha mai dato in nulla a osta. E mi sono informato. Non ci sono in nulla a osta per il mercato. Il mio emendamento dice, prima di chiuderlo, perché si rischia di chiuderlo definitivamente questo mercato, spostiamolo in un'area mercatale ampia che permetta il parcheggio per gli utenti, il parcheggio per i mezzi. Quindi piazza Ugolamalfa. Propongo piazza Ugolamalfa, area comunale, lo specifico, la domenica mattina, perché non il sabato mattina? Perché andare a proporre il sabato mattina in piazza Ugolamalfa sarebbe un volere distruggere chi già con le proprie attività commerciali svolge quell'attività in quella zona. Ci sono già tre fruttivendolo che lavorano tutta la settimana lì, non gli provi a precludere il sabato a questi di poter lavorare perché viene un altro mercato che poi, a detta dei tanti... Per la salvaguardia di tutti diciamo. A detta dei tanti e io non sono un addetto del settore, non sono un tecnico, però mi si viene anche confermato da loro, non è un mercato, lo chiamano loro chilometri zero, cioè è merce che questi non sono tutti coltivatori diretti, no, molti di questi sono commercianti, vengono da Palermo, da Marsala, acquistano nei mercati e vengono a rivendere. Cosa dicono i nostri commercianti? Bene, facciamolo pure noi. dateci l'area più bella, Villa Bonviglio, dateci un'area a noi il sabato, facciamo noi il mercato, facciamo noi il mercato dicono i nostri commercianti, perché poi perché viene chiamato nostro commerciante? quelli pagano le tasse regurgenti, quelli pagano le tasse, quelli pagano ogni loro attività, se poi andiamo, perché qualcuno mi ha detto pure questo, se poi andiamo all'altro problema, che molte attività pagano per 15 metri e hanno 300 metri quadrati, ma ti posso assicurare che loro si vogliono mettere in regola e il comune non li va a mettere in regola perché, ma non ti preoccupare, come Villa Bonviglio, l'ultima, la pista di pattinaggio, la sai cosa è successo, no? No, 3 mila euro, non ti preoccupare, ci pensiamo noi, non è così perché poi l'Imba ti manda la bollettazione per 10 mila euro. I tributi Imba, sì. Peppe, noi siamo fuori tempo massimo perché la nostra mezz'oretta è scaduta, siamo già oltre un quarto da quella mezz'ora, ma un'ultima domanda devo fatta perché siamo a fine gennaio incombe la sagra del mandorlo in fiore che notizie ci dà in merito? Stamattina leggevo sul giornale che la sagra si si svolgerà regolarmente, quindi significa prima settimana di febbraio e addirittura si svolgeranno delle manifestazioni collaterali e la sagra si proterrà fino al mese di marzo. Cosa c'è di vero? Anche perché al momento non è stata convocata alcuna conferenza stampa. Apprendiamo dal giornale La Sicilia, se adesso non ricordo male. Allora, sagra del mandorlo in fiore. Sagra del mandorlo in fiore? La sagra del mandorlo in fiore. Ci sarebbe solo 130 mila euro di sfoggi. Sagra del mandorlo in fiore. Non vorrei essere frainteso. Sagra del mandorlo in fiore. La sagra del mandorlo in fiore non esiste da anni. La sagra del mandorlo in fiore era una manifestazione con al suo interno delle manifestazioni collaterali che erano diventate poi le principali, il mandorlag, cioè era la sagra per la mandorla, sagra significa fare la sagra del couscous, era la sagra del mandorlo, quella è la sagra del mandorlo, da anni non si è più svolta la sagra del mandorlo, si svolge ad Agrigento un festival del folclore, di folcloristico Agrigento ha tutto, perché tutto quello che si fa è folcloristico, è folcloristico al 21 di gennaio, discutere se farla, come farla, quando farla, essendo i nostri albergatori che dicono che hanno tante prenotazioni, oh mio Dio. Forse anche la loro spinta è stata incisiva a questo punto. Perché se ogni anno poi si deve fare, non programmarla un anno prima, se ne parla sempre, non programmarla un anno prima, è per quest'anno che ormai non ci sono più tempi di organizzazione, di altro, perché poi non ti nascondo che la gente deve sapere, in metà Europa, in quasi tutto il mondo, girano inviti da parte del sindaco Zambuto a gruppi folcloristici, ma non da ora, da sei mesi, sette mesi, e poi ancora non sappiamo chi organizza, allora non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, perché poi abbiamo fatto scappare la settimana pirandelliana, perché non avevamo soldi, non avevamo soldi e abbiamo fatto scappare la settimana pirandelliana che portava 1300 pernottamenti, la sagra quanti pernottamenti porta? Io ho una domanda che farò agli albergatori, quegli stessi albergatori che non sanno forse che in questo momento chi gli dice di essere dalla loro parte porterà in consiglio comunale molto probabilmente la tassa di soggiorno, ne stanno discutendo, la maggioranza sta discutendo della tassa di soggiorno, la maggioranza predisporrà la tassa di soggiorno e la porterà in consiglio con molte probabilità, però abbiamo perso 1300 pernottamenti della settimana pirandelliana, con un contributo che il comune largiva, con un contributo che il comune largiva, di al massimo 15 mila euro, 5 mila euro lo scorso anno, prima di perderla, perché? Perché? Perché non era legittimata politicamente da noi, da chi comanda, da chi indigentemente gestisce agrigento in una maniera e la disamministra, noi abbiamo perso la settimana pirandelliana, una nostra creatura, una creatura agrigentina, a tutti gli effetti, e perdiamo 1300 pernottamenti certi, però oggi con 130 mila euro voglio vedere quanti pernottamenti mi dimostreranno di aver avuto i nostri albergatori, non ce l'ho con gli albergatori, però nessuno di questi ha mosso un dito per la settimana pirandelliana, perché? Perché sono gli stessi albergatori che hanno votato Zambuto, ma di cosa parliamo? Cioè perdiamo la settimana pirandelliana, ci porta 1300 pernottamenti e ora facciamo carte false spendendo 130 mila euro per una sagra che non è più una sagra, è un festival del folklore nel quale andranno a litigare, l'anno scorso hanno litigato, ricordate lo scontro Caseta-Zambuto per la sagra del mandorlo, per il festival del folklore meglio dire. Sì, al teatro pirandello. È così, è così, andranno a litigare i nostri gruppi, perché non si vuole fare altro che è politica per i nostri gruppi, perché sono quelli che poi ti vanno a votare. 130 mila euro da poi destinare alla sfilata dei cavalli, ma di che parliamo? Non sono contrario alla sagra, organizziamo la sagra. La sagra della mandorla, organizziamola. La mandorla e non soltanto il folklore. Peppe, io devo stopparti, un fiume in piena, Peppe di Rosa, che ha evidenziato che ad Agrigento purtroppo vige l'illegalità. Chiudiamo così, avremo sempre modo e tempo di vederci, di incontrarci quasi quotidianamente e ritorneremo anche qui da questa trasmissione, da questa emittente con il vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento Peppe di Rosa. Ti lascio al tuo lavoro, buon lavoro, sei sempre impegnato a 360 gradi. Ringraziamo i nostri telespettatori e ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo ospite a Tu per Tu su Studio 98. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.